E' una giornata importante per il Centro Sportivo Italiano, in particolar modo per il Comitato di Arezzo. Possiamo dire che torna a vivere, è una sorta di nuova nascita per il Centro Sportivo Italiano, è finito il commissariamento, adesso si torna al lavoro con un consiglio direttivo praticamente rinnovato. Sì, diciamo che dopo 14 anni di commissariamento il nostro lavoro che ha portato in sei mesi a ripartire da quella che era la situazione iniziale, una situazione di stallo, anche dal punto di vista sia di tesseramenti che comunque di conoscenza nel territorio del CSI, si è ripartiti, ci siamo messi sotto con il lavoro e adesso finalmente riusciamo a dare una nuova vita. Oggi c'è stata l'elezione del nuovo Presidente, con grande gioia accogliamo Giorgio Saini al nostro direttivo e quindi poi di conseguenza ci sarà una programmazione futura, una programmazione basata sui giovani, sulle società e sulle parrocchie. Oltre a rivolgervi ai giovani ci sono tanti progetti su tutti la Junior Team Cup che è appena ripartita, però insomma ci sono anche tanti altri sport e sezioni che andrete a toccare. Sì, quello sì, allora intanto iniziamo con il sorteggio che a breve ci sarà della Junior Team Cup, quindi questa fase che come abbiamo già presentato alla conferenza stampa del 13 è improntata su un under 14, partito ovviamente di calcio e di calcio a 7, però ovviamente guardando al futuro vogliamo dare importanza agli sport minori, a quelli che possono essere il tiro con l'arco o passare addirittura al tennis tavolo e può comunque dare anche uno spazio a quello che possono essere le palestre, le attività delle palestre, quindi cercare di convogliare tutte quelle che sono le loro attività in un palcoscenico anche più ampio.